UFFICIALI PRONTI In attesa di istruzioni Due forze nemiche all'orizzonte A due battimenti, protesi sensibili Generatore di fumo avviato Unisci 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 Sommersibile nemico in vista! Rilasciate! Rilasciate! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ricognitore di ritorno. Grazie a tutti. Generatore di fumo avviato. Grazie a tutti. 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 Rilasciata cortina fumogena. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ricognitore di ritorno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.